Ciao a tutti, io sono Elisabetta e sono un'archeologa. Che cosa mi ha portato a intraprendere questo percorso? Beh diciamo che la mia è stata più una scelta dovuta a un colpo di fulmine dopo la maturità quando ho iniziato a vedere i vari percorsi formativi che offriva l'Università di Torino e mi sono imbattuta nella laurea triennale in benicoltura agli archeologici. Da lì è eseguita la lettura durante l'estate tra la maturità e l'inizio dell'università di questo libro, Una giornata nell'antica Roma di Alberto Rangela, che analizza appunto la vita quotidiana della Roma imperiale nel secondo secolo d.C. e da lì appunto ho iniziato a capire che l'archeologia non è solamente lo studio della storia dei grandi venti e dei grandi uomini, ma è più lo studio appunto delle piccole cose della vita di tutti i giorni e degli uomini. Infatti ho anche, soprattutto dopo aver letto quel libro, sono andata per la prima volta nella mia vita a Roma e da lì diciamo che mi è scattato proprio l'amore per questa disciplina e infatti mi sono poi laureata nella triennale in benicoltura agli archeologici, nella magistrale in archeologia storia antica, sempre a Torino. E come stavo dicendo appunto, l'archeologia ci aiuta a comprendere diciamo che noi uomini non cambiamo mai comunque perché osservando le varie abitudini delle persone di secoli fa che possiamo trovare analizzando un frammento di piatto o un frammento o un bicchiere o un giochino che usava un bambino ad esempio del terzo secolo dopo questo permette di vedere come comunque c'è una base che accomuna tutti gli uomini di tutte le epoche ed è appunto questa quotidianità, questa vita appunto fatta di ad esempio mangiare, dormire, divertirsi, fare e avere degli hobby ecco che nonostante i tempi comunque giustamente si evolvano e cambino, certe necessità e certi atteggiamenti umani non cambiano mai e quindi lo studiare proprio queste varie vite di uomini vissuti secoli fa che ci hanno lasciato comunque delle tracce della loro vita quotidiana mi ha affascinato fin da subito e spero che affascini chi decide di intraprendere questo percorso vi saluto e vi auguro buona giornata vi auguro buona giornata